Buffera nella coalizione di centro-sinistra alla vigilia della presentazione delle candidature. Dentro o fuori, il PD ha chiesto ieri al Movimento 5 Stelle di dare risposte entro l'ora di pranzo di oggi. Tutto in mano a Giuseppe Conte. Sarà lui a decidere se confermare o meno l'alleanza progressista in Sicilia. Finora, assicurano i dirigenti siciliani dei 5 Stelle, non c'è stata ancora una decisione e si aspetta la chiamata di Conte che ha in mano il dossier Sicilia da giorni. La situazione di stallo sta provocando diversi problemi a idem per la definizione delle liste per le regionali. Ricordiamo che si vota il 25 settembre. E soprattutto sta tenendo sulla graticola Caterina Chinnici che ha vinto le primarie ma che ha sempre sostenuto che la sua candidatura governatrice è vincolata all'alleanza che fu fatta per le storiche consultazioni giallorosse. Tant'è che non c'è nemmeno l'ombra della lista civica della Chinnici e sono in tanti a sostenere che c'è il rischio forte che potrebbe non essere formata. Rimane aperta poi la questione impresentabili. Chinnici non vuole candidati rinviati a giudizio nelle liste della coalizione. Il Movimento 5 Stelle sta andando avanti per la propria strada e non ha preso posizione. Claudio Fava invece ha contestato l'approccio giustizialista di questa richiesta mentre nel PD il confronto è esploso anche se il segretario Anthony Barbagallo pare dare un'apertura come scrive la Sicilia. Deciderà il PD. Dopo tre rinvii consecutivi, questo pomeriggio si dovrebbe riunire la direzione regionale dei DEM proprio per affrontare il nodo delle liste. Ma tutto questo sembra legato a stretto filo con la risposta di Giuseppe Conte.